60 casi, 20 modelli, 180 prove, siamo all'Istituto Newton di Marzo di Lodo e abbiamo fatto le prove cooperative dei caschi G, i caschi più diffusi e venduti in Italia. Dalle prove di impatto e scalzamento eseguite secondo gli standard previsti per l'omologazione EC2205 sono emerse tante conferme ma alcune sorprese. Torneremo in laboratorio per le ultime verifiche e nel prossimo numero di motociclismo, in uscita dal 27 febbraio, vi proporremo un report completo. Arrivederci in edizione. Grazie a tutti.